Per il docente progettare e gestire una lezione o delle attività interattive è ovviamente più impegnativo, anche se la tecnologia, come abbiamo visto, può rivelarsi utilissima per ridurre al minimo i tempi e gestire interazioni strutturate in classi anche numerose. Ma perché è così importante investire energie e tempo in interazione durante i momenti di raccolta dei contenuti? Per rispondere partiamo da come funziona l'attenzione e da che cosa succede nella nostra testa quando raccogliamo informazioni. La definizione di attenzione più comunemente accettata tra gli psicologi cognitivi è la capacità di concentrarsi su uno stimolo specifico ed è fondamentale per l'apprendimento. È però anche una risorsa a capacità limitata, così come limitato è il numero di stimoli che siamo in grado di elaborare in un determinato tempo. Ma in che senso risorsa a capacità limitata? Introduciamo due concetti che ci aiutano, il carico percettivo e il carico cognitivo. Il carico percettivo è la quantità di informazioni che siamo in grado di ricevere in una determinata quantità di tempo. Superata questa quantità non siamo più in grado di recepirle. È per questo motivo che gli studenti sottoposti ad un flusso di informazioni troppo intenso riescono a svolgere funzioni automatiche, come prendere appunti, ma non riescono ad attivare un'elaborazione più profonda dei concetti. Il carico cognitivo invece rappresenta il tempo che richiede l'informazione per essere elaborata. Più un'informazione è complessa, più tempo servirà per elaborarla. Il carico percettivo e quello cognitivo sono regolati da un rapporto di proporzionalità inversa, cioè se le informazioni sono semplici da elaborare, aumenta la velocità di raccolta delle informazioni. Se invece i concetti sono complessi, è necessario rallentare il carico percettivo e quindi dilatare i tempi nella spiegazione e permettere agli studenti di raccogliere ed elaborare le informazioni. Ma è sempre vero? Proviamo a pensare a un lungo elenco di dati e valori. Sono informazioni semplici da elaborare, ma se semplicemente elencate difficilmente verranno ricordate dagli studenti. Tutta la fatica di memorizzazione verrà fatta durante lo studio a casa. Il carico percettivo e quello cognitivo infatti hanno un impatto diverso sull'apprendimento, cioè se chiedo allo studente una fatica cognitiva ho più probabilità di avviare il processo di apprendimento. Proviamo a tornare all'esempio di dati e valori. In questo caso si può chiedere agli studenti, magari attraverso un quiz lanciato in aula, di indicare se il valore è secondo loro rilevante o no, oppure di comparare dati fra loro, o ancora provare a indovinare se i valori sono aumentati o diminuiti rispetto agli anni precedenti e che variabili possano avere contribuito a tale variazione. Riprendiamo ora la domanda iniziale, perché è così importante investire energie e tempo in interazione durante i momenti di raccolta dei contenuti, perché attivando gli studenti e chiedendo loro di mettersi in moto rispetto ai contenuti che si stanno affrontando, si stimola già una prima elaborazione e manipolazione dei contenuti e si aumentano le probabilità di memorizzazione e apprendimento. Come fare quindi? La soluzione più efficace è progettare e gestire una lezione che offra molti momenti di interattività anche diversi fra loro. Non è necessario progettare attività lunghe e complesse, sono sufficienti anche attività di pochi minuti distribuite lungo l'arco della lezione. Le attività riescono anche a dare respiro tra un argomento e l'altro, costruendo un ritmo che permette agli studenti di elaborare un contenuto prima di passare a quello successivo e limitando così il sovraccarico cognitivo. Ecco qualche accorgimento da avere quando si progettano momenti interattivi. Uno, farsi aiutare dagli strumenti digitali come gli student response systems o le lavagne condivise o i tool per la lettura condivisa e la visione interattiva di video o ancora gli strumenti per la peer review eccetera. Questi strumenti aiutano a contenere i tempi, gestire attività con classi grandi e anche perché no lanciare attività altrimenti difficili da gestire. Molti di questi strumenti sono molto semplici da impostare e gestire per il docente e ancora più semplici da utilizzare per gli studenti e permettono tra l'altro di mostrare in diretta i risultati e di dare un feedback immediato. Progettare attività che siano integrate nella lezione. In caso contrario verranno percepite dagli studenti come una fatica ulteriore e non utile. Se le attività vengono svolte al di fuori dell'aula è importante prevedere sempre un momento di ripresa anche veloce e anche asincrono. Tre, fornire sempre un feedback anche veloce alle attività. Il momento del feedback è preziosissimo. Senza una restituzione si rischia di far perdere valore alle attività e si demotivano gli studenti. Al contrario è proprio in questo momento che gli studenti sono più ricettivi proprio perché si sono messi in gioco.